Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un ringraziamento anche ai ricondizionatisti, cioè a tutti coloro che come me hanno aderito all'invito, al consiglio di cambiare il proprio telefono, il proprio computer, il proprio iPad, rivolgendosi agli amici di Cusano Milanino di Regen Store, sia all'indirizzo fisico, come vedete nella sovraimpressione, a Cusano Milanino, sia all'indirizzo invece telematico, utilizzando gli sconti GLR e GLR TV. Grazie. Siamo al day after di una brutta partita, anche rivedendola è stata una brutta partita. Real Società d'Inter, non è stato brutto il risultato, uno a uno, ma siamo, sono, anzi perché qua parliamo sempre con Turale Maestatis di vent'anni fa, sono abbastanza sgamato e anche onesto per riconoscere che ci è andata di stralusso, cioè forse due anni fa una partita del genere l'avremmo persa, magari anche l'anno scorso, non nella parte finale in cui si è sviluppata la nostra autostima. Male tutti, male tutti e devo dire che, poi analizzo naturalmente nel day after, i top e i flop sono tanti, i flop ma male generalmente la squadra, l'approccio eccetera, però vedo con sommo piacere che sono tornati i chiacchieroni rossoneri dopo la prima partita, effettivamente non all'altezza delle altre, ma c'è anche l'avversario in campo, lo ricordo soprattutto nel suo campo, la noeta, che è un bell'inferno. I chiacchieroni rossoneri hanno subito detto, ecco insomma avete visto l'Inter, non è sta gran cosa, allora dirlo dopo, perché non è che sia passato un millennio, no, che l'Inter è andata comunque in finale di Champions e dirla dopo la prima partita e aver preso 5 per nel quinto derby del 2023, maneta con maneta e penta orgasmo, devo dire che fa abbastanza sorridere. Tra l'altro io che amo gli spottò, cioè li accetto volentieri per carità di Dio, sono il primo a dire che c'è andata di stralusso, che il Milan ha giocato meglio col Newcastle di quanto noi si sia fatto con la Real Sociedad, però francamente farle pulci all'Inter, una volta avevo detto che per rivolgersi a me un rossonero avrebbe dovuto nell'anno 2023, l'anno in corso, se no torniamo ancora alle 7 Champions, al Triplete, i Fenici, i Cartaginesi, Carosello, la Domenica del Corriere, avevo detto almeno fai un gol tu decisivo in un derby contro di me. Un gol l'hanno fatto ma non è stato decisivo, quindi che facciano le pulci su di noi in Europa quando non fanno una finale internazionale, ripeto, da 15 anni al di là delle nostre due in Europa League e Champions Perse, la cosa mi fa, devo dire, sganasciare dalle risate. Eppure fa parte della storia degli sfottò, ci sono locali ad hoc, ne ho trovato io uno a Corsico, adesso lo vedete in sovraimpressione, l'insegna è fantastica, anche molto bella, non ci ho mai mangiato, adesso ho passato per caso ma mi sono fermato a fotografarlo. Ecco, trovatevi all'Istanbul di Corsico, magari tutti con il dress code ufficiale, la maglia di Rodri, assolutamente, al vostro posto lo farei anch'io, perché non avendo vostre soddisfazioni attuali, capisco, voglio dire, che per avere una serata un po' diversa dal solito, in cui non ti viene la faccia da catacomba, maglia di Rodri, 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 dico, benissimo, proseguite così, in attesa di celebrare le vostre grandi imprese, nazionali e internazionali, però, ripeto, magari un po' attuali, se non altro contemporanei. Io ci arrivo da solo, non ho bisogno dei suggerimenti a capire che l'Inter è andata male a San Sebastian, la spiegazione l'ho data, per me la prima spiegazione è la sbornia da post-penta-orgasmo derby, perché siamo tutti uomini, ragazzi, alla fine l'immenso penta-orgasmo che hai avuto da quella partita ti ha portato un po' a prendere sotto gamba l'avversario, a prepararla male, tant'è che, ragazzi, l'elenco dei flop è lunghissimo, da bastoni che ha fatto una cosa, manco fosse Beckenbauer, hai la possibilità di dar via la palla al quarto minuto a tre compagni che sono più tranquilli di te, cosa ti vai ad avventurare tra due giocatori? Perso palla, gol della Real Sociedad. Anche Carlos Augusto ha subito molto cubo, Mkhitaryan sicuramente era in debito d'ossigeno dopo il grande avvio di campionato, Arnautovic e Aslani, io non do la croce addosso a loro, però benedetti ragazzi, siccome Marotta ha detto una cosa nel pre-partita, ha detto non parliamo più di titolare e di riserve, parliamo di titolare e contitolare, allora Arnautovic e Aslani che vantano, devo dire, un numero limitato di presenze in Champions League, Arnautovic l'ha giocata l'ultima volta dieci anni fa col Werder Brema, Aslani ha cinque o sei spezzoni, ecco, benedetti ragazzi, cercate di mettermi in luce, voi, no, se volete essere dei contitolari e non rimanere delle riserve perché quello che ho visto, insomma da quello che ho visto siete ancora delle riserve, però ripeto non è colpa loro perché anche Dufris, anche Barella, insomma fan parte dei flop, non sono andati bene, quindi dovevano aiutare i nuovi, non lo hanno fatto, quindi complessivamente tutta la squadra che non mi è piaciuta, che non ci è piaciuta. Devo dire che poi la scossa comunque l'hanno data ai nuovi, che era anche bello vedere chi ti attacca, ti mette in difficoltà, ecco magari Pioli dovrebbe imparare qualcosa dalla condotta tattica che ha avuto la Real Societal, magari eh, però devo dire che poi Sommer non avevo dubbi, poi mi fa imbestialire che uno per celebrare Sommer, cosa che io sapevo, se avete visto gli interventi di Frey, ma anche di altre dette i lavori, Bordonna, ma ve ne proporrò altri, non avevo dubbi su Sommer, non capisco perché si debba godere del fatto che Onana stia facendo una papera via l'altra, Onana ha scritto comunque pagine importanti dell'Inter, c'è sempre questa gente indegna, consentitemi che per essere contento di uno deve per forza gettare merda sull'altro. A me dispiace invece che Onana non abbia avuto un buon abbio, perché io resto affezionato ad Andrè Onana, quindi mi godo Sommer, che adesso è il portiere dell'Inter, ma non capisco perché ogni volta si debba gettare fango sull'altro che è stato qui. Cazzo vuol dire. Vabbè, comunque molto bene Sommer, parate decisive, quella su Oyarzabal è stata fantastica, devo dire bene Turan, bene Di Marco, bene Frattesi, bene De Vrai, tutto sommato bene Acerebi, discreto Pavara, la sua prima partita ma non avevo dubbi, e questi sono i top. Lautaro Martinez nei top ci entra perché ha fatto gol e quindi per carità di Dio, però diciamoci la verità, aveva combinato nulla come Arnautovic fino al gol, quindi aspettandoci dal toro sempre che sia super top, una volta ci può anche stare. Sanchez devo dire che con la sua anarchia alla fine ha fatto un po' di casino come suo solito, lo metto insomma in quelli più sufficienti che insufficienti. Però insomma abbiamo capito che ancora, come dice Marotta, come vorrebbe Marotta, l'ambizioso piano di avere tutti, visto che abbiamo due giocatori per un ruolo, tutti titolari per cui gioca uno gioca l'altro, non è proprio così, ma insomma è un progetto ambizioso ma ci sta. Con questo io ad Empoli, ve lo dico già fin d'ora, non è che voglio bocciare Arnautovic e Aslani in particolare che sono i due insomma che hanno provato, poi ripeto sono andati male anche bastoni, Carlos Augusto, Dunfri, Sbarella. Cioè adesso io non è che voglio dire allora basta Arnautovic e basta Aslani, anzi, addirittura li riproporrei. Cialanoglu adesso non si capisce bene se può, sembra che sia una cosa da poco e possa già essere aggregato alla squadra che andrà a Empoli però anche se riposa un attimo. Valutiamo adesso, ci sarà anche Klasen, no? Che è ancora quello a zero minuti che può dar spazio, però se anche Arnautovic e Aslani vengono riproposti non mi scandalizzerei, quindi anzi se devono prendere coraggio. Certamente se devono salire di temperatura per avvicinarsi ai titolarissimi devo dire che la partita di San Sebastian era più indicata di quella di Empoli per l'avversario e devo dire che come altri, torno a dire, non hanno mantenuto nemmeno loro le attese. Con questo ragazzi in questo momento è giustissimo fare esperimenti, non sono minimamente per occupato del girone di Champions, l'anno scorso la prima avevamo beccato zitti e muti in casa col Bayern, avevamo già perso due partite in campionato praticamente, adesso abbiamo due partite di fila in casa con il Benfica e con il Salisburgo. Io ritengo che queste due partite di Champions, entrambe in successione in casa, ci possano già dare, non dico l'aritmetica qualificazione ma comunque riportarci nel ruolo che è giusto riconoscerci di favoriti del girone. Poi ci saranno le trasferte naturalmente a Salisburgo e a Lisbona col Benfica e poi si chiuderà in casa proprio con la Real Sociedad dove presumo noi si possa già essere qualificati, non dico primi nel girone ma già qualificati. Però ragazzi la Champions, ne parliamo quando sarà male la prima, è doveroso dirlo, male la prima, benissimo, adesso torniamo al campionato e non commettete l'errore, perché io vi conosco, di pensare che ad Empoli sia la solita passeggiata, la solita Inter schiaccia sassi, cioè io me lo auguro. Però attenzione l'Empoli ha appena preso sette gol dalla Roma, ha cambiato allenatore, gioca davanti al suo pubblico, immaginare che venga a sdraiarsi subito di fronte all'Inter per manifesta impotenza, secondo me è un po' esagerato. Quindi bene attenti alla partita di Empoli perché l'affidabilità, come dico sempre, dell'Inter, abbiamo avuto buone prove in questo avvio di stagione, ma non è ancora qualcosa di assodato ed è giusto che non lo sia, visto che siamo ancora appena oltre la metà di settembre. Con questo vi bacio, cari amici, viva l'Inter come sempre e tranquilli rossoneri. Noi quando si gioca male e quando ci va di estralusso ce ne rendiamo conto, non abbiamo bisogno, forse siete voi che non me ne rendete conto, quando magari andate a parlare di frattesi che non doveva fare così o vi consolate con la maglia di Rotri, va bellissimo, consolatevi con la maglia di Rotri. Prima o poi dovete mostrare però qualcosa anche voi in questo grande Milan rinnovato. Noi i nostri problemi sappiamo individuarli e curarceli da soli, ve lo garantisco, ve lo assicuro. Ciao ragazzi, viva l'Inter!